Ciao ragazzi e benvenuti in Brasile Oggi iniziamo subito con Castle E Sì qua piazziamo un pannello parassato Che non si sa mai E ne vorrei piazzare No qua mettiamo invece questo qua Bello rinforzato Così almeno siamo belli riparati da questa Qui raga siamo stati individuati Non so se piazzare qua i pannelli corazzati Sinceramente Perché potrebbero essere utili per uscire immediatamente E uccidere gli avversari A me piacerebbe sapere dove cavolo siano Questi maledetti che fanno tutto sto bordello Piazziamo un altro pannellino corazzato Ma non ci credo di avere una mira così a banana Raga Dai muori Ma siamo fusi Ma Non esiste Non esiste Essere fregati E essere in questa situazione Ma dai L'avevo sentito Che fastidio Che fastidio Mi aveva sentito Prima Mi aveva visto prima lui Sarà difficile Oh il bello è che ha messo là le corazze E nessuno le ha prese Rock Quando mai ha messo le corazze Dopo vorrei vedermi nel replay Se sono stato veramente così accecato Da non accorgermene Ma nessuno Della mia squadra Ha preso le corazze Oh questo fa le kill Io non le vedo Eccolo Porca vacca Quel maledetto Ah era proprio secco Spedito là Aveva visto che c'era Ed eccoci qua Allora stiamo attenti Che nessuno esca Ok Nessuno qua è uscito Allora possiamo distruggere Tutte le camera Vabbè Sarai già morto Se ci fosse qua qualcuno E andiamo a me E qua C'è qualcuno Estratutto C'è qualcuno C'è qualcun Dai, vieni a mi rianimare Da due millimetri Sparare in testa, quello non muore Cioè, né io né lui siamo morti alla fine Cioè, io sì con quegli altri Però, colpi secchi Zero 3 contro 5 3 contro 4 Dai raga, cavolo Non si possono fare 3 e 3 Ottimo Eccolo, l'hai visto, l'hai visto, l'hai visto Eccolo, lo vedi Mi hai visto un altro, è un altro sulla sinistra È lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì Oh, c'è a non cadere L'hai visto, l'hai visto Con calma, un respiro profondo No, non l'ha visto Vai, 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 vai Che cavolo va questo Ma cosa te ne frega di aprire un'altra parete Guardalo, guardalo, guardalo Oh, là Io non avrei spaccato la seconda parete Io sarei entrato direttamente dentro E avrei sparato su casa un altro proiettile Dentro nell'altra Room Favoloso E vorrei sapere, ragazzi Sotto giù nei commenti Secondo voi Se prima con Buck non andavo col fucilapompa Ma con il fucilozzo normale Secondo voi Riuscivo a uccidere il nemico o no? Ditemelo sotto giù nei commenti Sì, grazie Qua chiudiamo Ma non si può mettere Piazzola di S Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Ritemontata in carica Dispositivo innescato Piazzola di S Piazzola di S Hanno avviato Eccolo lì No, non mi ha visto Via Cambio caricatore Intervenite all'istante Iniziato ad appropriarsi del contenitore Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio Impedite al nemico di prendere il contenitore Ultimo attaccante Grandissimo Capcom con questo fucile raga è una di quelle sicurezze Cioè prendete il nemico e lo shottate Quarto round Abbiamo individuato Tutti gli operatori Che cavo Sarà messo Dai muoviti Ho voluto prendere sledge Perché magari così riesco a uccidere qualcuno Con il martello Qua sembra tutto chiuso Ragazzi Tutto bello che clear Esco io come un fagiano Sì no Non c'è nessuno Se non sarebbe allo più fritto Non c'è nessuno Amico mio Ti ho sentito la Dispositivo anti intrusione distrutto Avevo sentito qualcuno Anche no là Andiamo via Quello lì è caduto Perché magari deve prendere un po' di vita Allora non facciamoci Individuare Stavo per dire No Trone pronto a partire Un minuto e venti Carica speciale Alla larga Ci siamo Indietro Rimane un nemico Ma cosa mi sta succedendo raga Cosa mi sta succedendo Guardalo lì Occio occio Bravi bravi raga Fortuna che eravamo in tanti Ma cosa cavolo mi viene Cioè Al limite potevo tenermi io la granata A farmi esplodere Non so veramente cosa mi sia successo là E questa volta Caveira Vediamo un po' se riesco a interrogare qualcuno Nessuno ha preso Capcan Ok Adesso vedo Le corazze E la cosa mi conforta Parecchio Un bel droll distrutto Non hanno trovato il contenitore Non sanno che operatori hanno contro Così bisogna fare Posiziono il cappetto trappola Non sanno che Non vi ho rischio Ma sì Lui sa che sono lì No Ma non scherziamo Ma smettiamola Dai per favore Per favore Non stavo muovendo un muscolo Vabbè lui stava controllando tutte le stanze Tutti che sparavano non sentivo niente io no Mannaggia Ho i nemici nel mirino Questa è sfortuna in una maniera incredibile E' ancora là E' ancora là Il nemico sta prendendo il contenitore Impedite al nemico di prendere il contenitore Occhio Maledetto muori Che poi è andata a morire là Dove non c'è nulla Boh vabbè Io non ho parole veramente Continuo però A darvi almeno una mano Con le telecamere Nope Nope Sento che è qua fuori Però le telecamere Non mi sono da aiuto Eccolo lì L'avete visto? Maledetto E' qua sul tetto Dall'altra parte 2-2 E' qua non vedo niente 2-1 E andiamo Con la trappola Complimenti a Frost Per aver messo le trappole Vabbè dai sotto la finestra E così abbiamo vinto 4-1 Una squadra Che si è comportata Tutti che si sono comportati bene Guardate che roba 5-4-4-6-5 Così con un miliardo e mezzo di assist Così sono le belle squadre ragazzi E' inutile fare 18 uccisioni E gli altri un'uccisione 2 platino e 2 platino contro Perfetto Io raga continuo la mia scalata E noi ci vediamo A un prossimo video